E voilà signori e signori, benvenuti nel magico mondo dell'operetta, un mondo fatto di sfarzo, di divertimento, di trasgressione, di voglia di vivere, di inebrianti giri di waltzer e perché no cari signori uomini, un mondo fatto di tantissime belle donne. Ecco, ecco, bravo, le donne, le donne, io voglio le ballerine, dove sono le ballerine? Ed ecco voi signori e signori, Sergio Forconi, attore di cinema e di teatro, ed il più grande interprete di Stinchi nell'acqua che è attualmente vivente. Ecco, bravo, puntualizziamo, sono abbastanza vivente, sì, sì, insomma, sì, insomma, sono venito, sì, ma apri pazienza, eh, ma quindi il contratto, io ce l'ho scritto, dovevo essere accompagnato dalle ballerine. Sergio, Sergio, cerca di capire, cerca di capire, queste sono professioniste serie, ballerine di danza classica, e poi qui siamo nell'operetta, non siamo nella rivista, la rivista è vent'anni dopo. Le donne, le donne vent'anni dopo? Non ce la fò mia a aspettare io, ragazzi, eh, ma per me le mi ci vogliano subito. La mia operetta si usa chiamarle in musica, cantando. Ah, io le devo chiamare cantando io? Certo. Io fra me il canto, figurati, c'è proprio una pizzo, a me non mi riesce a cantare. Ma per me è una canzoncina? Sì, sì, una ce l'ho, una ce l'ho, è quella, è quella di Paese delle Campanelli. Bene, bene, sentiamo come fa. Sì, sì, quella come la fa? Ah, la fa così. Blum, la fa, blum, la fa, blum, la fa. Ma che razza di canzoncina è questa? Eh, no, perché vedi, vedi, ogni donna ha il suo punto debole. Dove? Nelle corde vocali. Allora, mettiamo, e te tu voglio ottenere, dove vieni in scena, una ballerina, e tu vuoi, e la ti faccio una bella danza per te, capito? Ma allora si usa altre dunofi. Ah. E lì si fa. La fa, la fa. E lei? Dalla fa. Ah. Sì. Beh, beh, mettiamo, insomma, che venga un'altra ballerina, che, insomma, che tu vorresti la ti desse qualcosa a te, capito? Sì. Allora c'è un'altra dunofi. Ah, sentiamo. Sì, tu gli fai. La do, la do, la do. E lei? La, lo so. Qui siamo nell'unità. Adesso ti faccio vedere come si fa. Come si fa. Maestro, musica. Vai, vai, vai. E poi, e poi, caro Sergio... come dimenticare l'esotica bonbon nel paese dei campanelli la divina frufru del baltabarè lisa lisa la principessa viennese innamorata del principe suciong nel paese del sorriso la combattiva anita acqua cheta per bacco eh l'affascinante Anna Glavari la vedova allegra ma soprattutto caro Sergio Loro le ragazze di Che Maxime si stura lo champagne si gioca all'aroulette e poi carezze e faci di donne in allegria io approvo approvo come ospite d'onore approvo ogni cosa si 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 allora io posso ballare posso si la dò si la dò si la dà si la dà si stura lo champagne si gioca all'aroulette e poi carezze e baci di donne in allegria e poi Grazie a tutti.